Lei pensa che sia possibile anche l'adozione da parte di coppie gay? Penso a quello che pensa la destra più moderna, per esempio in Gran Bretagna. Penso che il diritto all'adozione non è nel programma del centro-sinistra, ma è legittimo come oggetto di discussione pubblica. Vorrei che se ne parlasse senza morbosità, senza le sciocchezze che dice l'onorevole Binetti, senza l'invenzione di immagini terribili, noi viviamo in un paese in cui nelle famiglie normali accadono cose terribili, i bambini vengono privati di diritti fondamentali, vengono parcheggiati, non vengono ascoltati, non fruiscono di quell'attenzione che dovrebbe essere il tema vero, noi siamo in una società in cui c'è tanta cattiva genitorialità, poi c'è anche tanta buona genitorialità. Il punto è ragionare di questo, non delle fiction, ma di ragionare della realtà. Allora io penso che quello che conta per un figlio è avere figure di adulti che sono capaci di accoglierlo, di accompagnarlo, di ascoltarlo, di fare i conti con la sua personalità, con la sua umanità concreta.